Mario Leveratto, nel suo intervento qui a Capri 2011 ha parlato di oggetti connessi, applicazioni e di come la loro combinazione consenta una maggiore inclusione digitale. Ci puoi brevemente raccontare di cosa si tratta? Sì, il nostro concetto è l'era di prodotti connessi e già oggi qui presente. Sicuramente abbiamo rivoluzionato il modo di considerare il consumatore e il prodotto. Gli smartphone sono sicuramente i prodotti che meglio simboleggiano questa connessione dei prodotti. Non si parla però soltanto di smartphone, ci sono i tablet che sicuramente hanno sviluppato notevolmente la loro funzione d'uso grazie a questa potenzialità di connessione, grazie alle application. e c'è un altro prodotto che sta emergendo in maniera molto importante a favore della connessione che è il televisore, che è il nostro Smart TV. Tutto questo si innesta su un milio di application che permettono di fasce sempre più ampie di persone di conoscere i nuovi contenuti, quindi esercitano una funzione di inclusività molto importante e dall'altra parte un ruolo altrettanto importante dell'application crediamo sia quello della focalizzazione. Internet oggi offre moltissime informazioni, le application consentono di focalizzare l'attenzione su alcuni punti specifici. Ma allora internet è morto come diceva Guairi dell'anno scorso, due anni fa? No, assolutamente, noi non riteniamo che internet sia morto, è un contenitore di informazioni molto importanti. sicuramente gli utenti che su internet raccolgono le informazioni che sono veramente importanti e sono salienti sono pochi, si stanno specializzando. Diciamo che le application danno un contributo molto importante a focalizzare la ricerca, a renderla più efficiente. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.